qui. Io vi rubo pochissimi minuti, intanto grazie al sindaco Mattia Palazzi a cui noi diciamo che il meglio deve ancora venire e quindi felicissimi di ritrovarci, grazie a Matteo, grazie a Elena, grazie a tutti i candidati, grazie alle persone che sono qua. Mattia prima diceva una cosa che per me è bellissima, quando diceva proprio all'inizio del suo intervento quando ricordava il sentimento della possibilità, detto in un altro modo, ve la racconto così, quando sono diventato sindaco nel 2009 erano gli anni di Obama e vi ricordate qual era il motto di Obama all'inizio? Yes we can, sì possiamo fare, allora io non che abbia un grande inglese, notoriamente uno shish abbastanza discutibile, ma mi ero molto esaltato da questa idea della possibilità e quindi il tema sì possiamo, sì possiamo, una delle cose più belle della campagna elettorale era che in tutte le iniziative trovavo un fiorentino che magari era bravissimo, che magari votava per noi, mi ascoltava con tutta la tiritera di programmi e poi faceva no, è un sipole, no, è un sipole, esattamente l'opposto, no, non ce la faremo mai, è un sentimento di rassegnazione che è presente nella società in tanti momenti, quando proprio sembra che non te ne vada in porto uno, quando sembra che sia impossibile cambiare le cose, la politica è potere, ma non potere inteso come sostantivo, il potere, il sindaco, il ministro, il parlamentare, il presidente del consiglio, no, potere come possibilità, poter cambiare le cose e questo è il miracolo di Mantova di questi anni. Ora Palazzi ha fatto una storia molto edulcorata, ha detto quando tu mi hai dato i nove milioni, si è trattato di una rapina a mano armata, cioè ero presidente del consiglio, ma sostanzialmente credo ci siano stati almeno due o tre reati, ora non vorrei dirlo che poi io e lui abbiamo una storia un po' complicata su queste robe, però il concetto è che potere, poter cambiare, poter guardare negli occhi uno che non ci crede più e dirgli ce la facciamo insieme, poter dire questa sfida ci riguarda, è una sfida che riguarda tutti, chiediamo i voti guardando i volti, mettendoci in gioco in prima persona, è una cosa bellissima, perché questa è la politica e in tempi di populismo da questo teatro, gioiello incastonato, come diceva Elena, da questo luogo di bellezza, come ricordava Matteo, in un giorno in cui festeggiamo la ripartenza di un grande festival, del festival della letteratura, forse l'evento che ha aperto la strada a tanti festival in tutta Italia, ma che dà il senso che noi non ci fermiamo, che la scrittura non si ferma, gli scrittori non si fermano, la letteratura e la bellezza non si fermano. In questo giorno qui, diciamolo con forza, noi siamo per la politica. Italia Viva che cos'è? Una piccola start-up, poi vediamo quanto piccola sarà, se no Matteo adesso mi redarguisce giustamente dicendo piccola, vediamo una start-up, sì però, una start-up che vuole puntare a dire fare politica in tempi di populismo è possibile. Ora, cos'è il tempo di populismo? Non so quanti di voi hanno visto una scena, che io giudico incredibile in queste ore, di una signora siciliana, si chiama Angela, che è diventata una star dei social. Lei è quella che dice di Covid non ce n'è qui, no non ce n'è di Covid, non ce n'è, avete visto? Questa si è iscritta a Instagram e ha preso 130.000 fan in un giorno. Una roba da fare in gelosina anche Salvini. Ma è il modello di una cultura che potremmo definire sbrigativamente del populismo, in modo un po' più complesso, facendo una cosa molto più seria, degli influencer, che è un modo che però, se è comprensibile sui social, non è comprensibile in politica. Invece noi abbiamo oggi, purtroppo, alcuni politici che interpretano la cosa pubblica esattamente nello stesso modo, come degli influencer. Il problema non diventa affrontare la sfida globale della sostenibilità ambientale, il problema è fare uno spot. Il problema non è affrontare l'immigrazione, il problema è bloccare una barca e farci una diretta Facebook. Il problema non è avere una visione dello sviluppo del lavoro, ma inventarsi il reddito di cittadinanza o quota 100 e raccontare che così si risolvono i problemi, quando in realtà così si aggravano. il populismo ha la cultura della signora Angela. La visibilità per la visibilità e non il miracolo del potere cambiare. C'è una differenza enorme, insomma, tra Mattia Palazzo e la signora Angela, questo era il punto di partenza. Da un lato c'è un'amministrazione che in questi anni ha provato a cambiare le cose, in molti casi le ha cambiate. E quando eravamo qui, la capitale italiana della cultura, e quando abbiamo rilanciato su tante e tanti eventi, ci siamo impegnati reciprocamente a dire che le grandi città di bellezza del passato non sono dei musei a cielo aperto. Pensano che quella bellezza abbia qualcosa da dire e da dare ancora oggi. Dall'altro lato c'è il populismo di chi? Sulla base del sondaggismo esasperato. Per cui questa cosa si fa o no? Dipende se piace. Ma che vuol dire? Può essere una cosa che lì per lì non va bene, non piace e che poi si scoprirà essere giusto e importante. Se sei un influencer non la fai perché guardi i like, se sei un politico la fai perché guardi il futuro delle generazioni. Italia Viva sta in questa grande scommessa, quella di dire noi siamo quelli che credono alle cose serie e non alle pagliacciate. Ce la faremo? Dipende da tutti noi. La storia di questi anni dimostra che abbiamo guardato poco ai sondaggi, qualcuno dice se tu li avessi guardati di più forse sarebbe stato meglio, ma questa è una storia che mettiamo da parte, e abbiamo cercato di dare una visione e un orizzonte al paese. A me fa ridere quando mi dicono oggi tutti in fila che bisognerebbe cambiare il bicameralismo paritario. Sono bellini, sono meravigliosi, perché anche questa riforma costituzionale per la quale si vota domenica 20 e lunedì 21, non vi chiedo come votate, ho detto non vi chiedo come votate, non suggerite, il problema è che è uno spot, un trailer di un fil molto più ampio che era quello che avevamo fatto noi. E vedrete che torneranno a dirci che bisognava farlo. E quando sette mesi fa abbiamo detto che bisogna riaprire le scuole, e ci hanno tutti presi per matti, le scuole adesso non sono il problema, adesso tutti a dire se ci fossimo mossi prima. E quando dicevamo che bisognava andare sulla decontribuzione, lo dico a Roberto, lo dico a Demma, e non sul reddito di cittadinanza, perché in un paese serio il benessere nasce creando lavoro, non regalando reddito di cittadinanza, cresce facendo fatica, non chiedendo assistenzialismo e sussidi, cresce impegnandosi, non pretendendo dallo Stato. Questo è quello che fa la differenza tra della gente civile e delle persone che invece ci immaginano soltanto di lucrare sulle spalle degli altri. Bene, di fronte a queste cose è accaduto che dopo qualche mese ci hanno dato ragione, sempre. Ora io vorrei fare un appello anche da manto, non dateci ragione, dateci il voto, perché noi la ragione non ci interessa più, la ragione va bene. Ora ci dovete dare il voto se volete che queste idee le possiamo portare avanti. E per darci il voto abbiamo un orizzonte che è quello che secondo noi è fantastico nella logica dell'opportunità del poter fare, del si può fare. Perché? Perché è arrivato uno tsunami terribile, un piccolo virus che sembrava insignificante ci ha reso in qualche misura, ci ha costretto a guardarci negli occhi. Io non credo alla tesi di chi dice usciremo migliori, ma chi l'ha detto? Però possiamo guardarci negli occhi, possiamo capire meglio come stanno le cose, questo sì. Io non credo che dice la vendetta della natura, ma di che ragazzi? Allora la peste del 1348 che cos'era? Contro la modernità, contro la globalizzazione, ma di che stiamo parlando? No, questo evento tuttavia ci porta a ripensare noi stessi. E chi viene a raccontare andrà tutto bene, vi prende in giro. Potrà anche andare tutto bene se oggi facciamo le cose giuste. Paradossalmente la pandemia è un assist devastante, terribile e tragico alla politica. Perché devastante, terribile e tragico? Perché ci sono i morti, perché non possiamo far finta di niente. Perché chi è morto sei mesi fa, senza poter salutare i propri cari, senza poter dire ciao, senza poter stringere una mano, dice ma si muore lo stesso. De Andrè diceva quando si muore si muore soli, ma una cosa è morire soli, aggrappati alla mano di una persona che ami. E una cosa è morire solo quando le persone che ti vogliono bene neanche sanno che stai morendo. Lo possono immaginare, ma non hanno più neanche un contatto. Questo è accaduto, non dimentichiamolo. Non dimentichiamo i volti, una volta di più di chi ci ha lasciato. Non dimentichiamo quel corteo di camion che lascia Bergamo e che su mezzi militari si avvicina ai cimiteri. È accaduto. Oggi le cose con la stessa franchezza diciamolo vanno un po' meglio. Perché è vero che c'è il problema della seconda... Parliamoci chiaro, dobbiamo essere prudenti, utilizzare le mascherine, stare attenti, non vivere di bagianate come quelli che dicono è tutto uno scherzo. No, c'è un tema vero che esiste, ma questo tema vero che esiste è anche un tema che fa meno danni di prima. Non dirlo significa non essere seri. Perché oggi ci sono 140 persone in terapia intensiva ed erano 4.000. Perché oggi muoiono 10 persone al giorno, un numero atroce, ma è un numero molto più basso di quello di marzo-aprile. E mentre diciamo che dobbiamo combattere il coronavirus, diciamo anche con forza, con forza, che ci sono a fronte di 10 morti per coronavirus, 500 morti ogni giorno per tumore e mille persone che scoprono di avere un tumore. E diciamo a tutti i costoro, alle famiglie, che noi non possiamo abbassare la guardia nei confronti della lotta contro il tumore. Chi ci è passato sa che cosa significa. Non possiamo abbassare la lotta contro le malattie cardiovascolari. 450 persone al giorno muoiono di malattie cardiovascolari. 400 persone al giorno muoiono di malattie legate al diabete. Allora dobbiamo essere capaci di combattere contro il coronavirus e di investire in sanità. E allora a maggior ragione, e lo diciamo a quegli scienziati anti-europeisti che dicono no al MES, dalla Lega ai grillini, il MES, 37 miliardi per la sanità, non è un giocattolino ideologico per le vostre menate mentali. È un qualcosa che serve alla sanità di questo Paese. Noi ce lo prenderemo, che vi piaccia o che non vi piaccia, perché serve agli infermieri, ai medici, ai malati, alle famiglie, non alle vostre fissazioni biologiche. È un prestito a interessi più bassi. Io qui, se qualcuno di voi ha un mutuo… Vabbè che a Manta va stati tutti bene, ma qualcuno ce l'aveva un mutuo. È vero che Palazzo ha fatto miracoli. Sì, grazie, come se l'adessi accettato. Poi ci arriva i tuoi mutui, sta fermo. Però anch'io ce l'ho comunque. Se uno ha un mutuo, fai conto, io faccio sempre lo stesso esempio, a 30 anni e deve pagare 1000 euro al mese per restituire il mutuo, è come se il MES fosse la magia di dirti, guarda, avevi 30 anni, te ne diamo 15. Gli stessi soldi, ma 15 anni e anziché 1000 euro 600 euro. Se tu dici di no a una proposta del genere, lui ti firma un trattamento sanitario obbligatorio. Ti dice, mi vieni qui, mi racconti che hai fatto da piccolo e ti firma il trattamento sanitario obbligatorio. Allo stesso modo il MES è questa cosa qua, lo dico per chi ancora fa finta di non vederlo, ma è una cosa che serve alla salute, alla sanità. Su questi temi, nel ricordare ciò che è accaduto nei primi mesi della pandemia, ragioniamo di quello che accadrà nei prossimi. Noi abbiamo dieci mesi difficilissimi davanti a noi, difficilissimi. Se vi raccontano che va tutto bene, vi prendono in giro, ok? Quando sarà possibile licenziare saranno dolori ancora più gravi dei 550.000 posti di lavoro già persi. E chi non ha un linguaggio di verità su questi temi, vi sta fregando. Guardateli negli occhi i vostri rappresentanti, i vostri amministratori, i vostri politici. Chi è serio vi dice che nei prossimi dieci mesi sarà più dura di oggi, dal punto di vista occupazionale, non dal punto di vista della salute. Ma una volta che noi in questi dieci mesi riusciamo ad impostare bene il lavoro del recovery fund, del MES, del programma SHORE, abbiamo davanti a noi dieci anni in cui l'Italia può tornare a crescere come e più di un boom economico. È una gara, come posso dire, a vinci e perdi, o bene bene o male male. Hai dieci mesi in cui soffri, devi stringere i denti, ma se in questi dieci mesi lavori hai lo spazio per poter portare a casa i risultati. E perché questo? Cos'è accaduto? È accaduta una cosa semplicissima. È accaduta che l'Europa si è ricordata di essere l'Europa e ha fatto un investimento straordinario. Questo investimento straordinario che ha fatto l'Europa prende le sembianze del recovery fund, ma non è solo il recovery fund. Tutto ciò giustifica ciò che Matteo Colanino ha detto egregiamente all'inizio. Il nostro, durissimo, per il nostro stomaco, lavoro di agosto 2019. Perché è accaduto tutto lì. Quando Salvini si è presentato in mutande, già l'immagine insomma non era granché, e ha chiesto i pieni poteri tra un moito e l'altro, molti di noi hanno pensato che il ragazzo ci avesse dato dentro troppo. Ma in realtà aveva un disegno e questo disegno era un disegno che egli perseguiva insieme a Giorgia Meloni di prendere e di avere la maggioranza assoluta per fare lui il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni la vicepresidente del Consiglio dei Ministri, un presidente della Repubblica sovranista nel 2022 e rendere percorribile quel disegno che poteva portare all'uscita dell'Italia dall'Euro. Quando io ho visto quel disegno lì, tutto il mio lavoro di stomaco contro i 5 Stelle, direi anche umanamente comprensibile per le falsità indegne di cui sono stato oggetto, per la cattiveria con cui hanno massacrato la mia famiglia, in quel momento però io ho pensato a quello che mi aveva insegnato un vecchio saggio a Firenze, cioè che la politica non si fa con il risentimento ma si fa con il sentimento. Ho visto un film che non mi piaceva e che poteva portare l'Italia fuori dall'Europa e lì, Matteo è stato uno dei primi con i quali ci siamo sentiti, era un giovedì sera, abbiamo iniziato a mettere in campo qualcosa. Quel qualcosa era un governo che mandando a casa Salvini potesse portare l'Italia di nuovo protagonista in Europa. Oh, intendiamoci, non è che aveva fatto tutto da soli, è Di Maio che un tempo andava a braccetto con Di Battista a incontrare i gireggialli. Straordinaria senso del tempismo andare dai gireggialli la settimana dopo che i gireggialli avevano rovinato un palazzo entrando con le ruspe nei ministeri francesi tecnicamente. Ecco, Di Maio allora faceva questo, andava con Di Battista dai gireggialli. L'anno dopo Di Maio va a inseguire e copiare Emmanuel Macron. Questo cambiamento radicale ha portato il governo a ottenere 209 miliardi di euro. Ora vanno spesi bene e qui, caro Mattia, c'è il tema della possibilità, della potenzialità, del poter fare le cose per cui un parlamentare di questo territorio come Matteo si mette lì e dice finché non raggiungo l'obiettivo del raddoppio della linea ferroviaria continua a insistere. Per cui una ministra come Elena, riprendendo il ragionamento sull'indice di natalità, con il Family Act prova a restituire un orizzonte di speranza, non tanto alla demografia, ma alla democrazia di questo Paese. Perché la demografia in alcuni aspetti ha una crisi che è ancora peggiore della crisi democratica. Ebbene, questa potenzialità è ciò che stiamo facendo. Ci stiamo provando. Delle volte prendiamo delle batoste, delle volte riusciamo. Siamo una startup. Le startup migliori sono quelle che sanno anche prendere delle batoste e ripartire. Non credete a chi vi fa il racconto che va tutto bene, che saranno tutte rose e fiori. Non è così. E questa startup può veramente cambiare le cose in Italia se accanto a quelli che ci danno ragione, che sono una maggioranza assoluta degli italiani, c'è anche qualcuno che ci dà il voto che ancora la maggioranza non è. Ancora, questione di giorni, però ancora non è. Questo è il nostro disegno. Ed è il nostro obiettivo. Ed è il motivo per il quale a Mantua ci troviamo a casa. Perché questa è una terra nella quale si è avuto la forza e il coraggio di immaginare il futuro ben prima che accadesse. Si è avuto la forza e il coraggio di fare della bellezza a tratto distintivo. Si è avuto il coraggio di vivere quel principio che ricordava Mattia dell'euro in cultura e euro in sicurezza come elemento fondativo di una identità. Si è avuta la forza in questi anni di dire è possibile farlo. Perché io c'ero quella mattina quando tu ti sei candidato. E quella mattina era una mattina di dolore perché io sono salito sul palco ed avevo appena ricevuto una notizia che un barcone era affondato nel Mediterraneo. Era l'aprile del mi pare il 18-17 aprile del 2015. E avevo una serie di tappe di campagna elettorale. In realtà dopo aver fatto l'intervento con Mattia sono tornato. Sono tornato a Palazzo Chigi. Ho chiamato Angela Merkel, François Hollande, David Cameron e ho cercato di affrontare quella emergenza. By the way, lo dico en passant, a chi ci dice che noi siamo come gli altri Salvini, come gli altri Matteo, come l'altro Matteo, noi siamo quelli che quando è accaduto quel fatto non soltanto abbiamo chiesto all'Europa finalmente di darci una mossa, non soltanto abbiamo cercato di salvare i vivi, ma siamo andati a raccogliere i cadaveri dei morti perché noi pensiamo, cadaveri delle persone che non ce l'avano fatta, perché noi pensiamo che un paese civile dia sepoltura. E qui ho firmato io l'atto che costava qualche milione per andare a raccogliere. E quando abbiamo raccolto il cadavere di un bambino di 14 anni che poteva avere l'età di mia figlia e che aveva dentro la camicia legata, dentro la camicia in una sorta di tasca legata dentro, la sua pagella, era venuto in Italia, stava cercando di raggiungere l'Italia, non portando una foto, non portando un simbolo religioso, non portando l'immagine del fratellino o della sua, ma portando la pagella, forse perché pensava che quella pagella avrebbe dimostrato alle italiane e agli italiani che lui avendo studiato poteva fare qualcosa, che il merito vale, che l'educazione è importante. Quando abbiamo visto queste scene, noi ci rendiamo conto che c'è quella parola di U, umanità, alla quale una città come Mantua, una città come Firenze, un territorio come l'Italia non potrà mai rinunciare, perché noi siamo impregnati di umanità e di umanismo e se qualcuno non l'ha capito glielo spiegherevo con un disegnino. Quel giorno me lo ricordo e finisco, a Mantua il clima non era granché, avevamo sondaggi buoni, ma il clima non era granché, Mantua veniva da situazioni complicate, c'era un senso di sfiducia. Questo è il grande merito di chi ha restituito un respiro alla città. Mantua è molto più grande di Mattia Palazzi, come Firenze è molto più grande di Matteo Renzi o di Dario Raddella, come tutte le città sono più grandi dei sindaci, ma i sindaci sono magicamente, in determinati momenti, delle persone che possono ispirare fiducia, possono creare un clima, possono costruire un clima. Ed è per questo che è stato bello vedere Mattia in questi anni all'opera ed è per questo che è bellissimo vedere Matteo, Elena e i nostri amici coordinatori e candidati mettersi in gioco per la lista di Italia Viva a Mantua, perché diamo il senso della voglia di continuare, di continuare a camminare insieme. C'è anche un rapporto personale? Sì, c'è anche quello. Diceva Mattia abbiamo preso una strada diversa, lui non racconta che nella settimana dopo le mie dimissioni io mi ero chiuso a Firenze e volevo lasciare la politica, come sapete bene, e stavo cercando di farlo se non fossero intervenute tante persone, tra cui Palazzi, a venire a raccontarmi lui la strada diversa l'ha trovata, nel senso che mi ha detto vengo a pranzo con te. No, ma guarda, vengo a pranzo a Firenze. Ha sfacciato la macchina perché ha preso una strada diversa in autostrada, è arrivato con un'ora di ritardo, questo non lo sa nessuno, non è una cosa che... Lui è stato il primo a venirmi a trovare degli amici amministratori e aveva talmente tanta voglia di venire a trovarmi che... Hai affiancato, dice che viene da sinistra, ma ha un'anima democristiana dentro, ha affiancato il camion, è il camion che gli ha fatto male. Io ti riconosco di aver creato questo clima, credo che chi ha cercato in questi anni di attaccarti sul piano personale con una campagna indegna di questa città e indegna della civiltà politica l'ha fatto perché aveva invidia di ciò che stava accadendo, del miracolo e della possibilità. E io per questo sono contento che la città sia stata al tuo fianco. E penso, lo dico a livello nazionale, che la storia di Mantua è la dimostrazione che il tempo è galantuomo e che quando si cerca di ammazzare politicamente una persona come si è cercato di farlo con Mattia, perché in quel momento l'obiettivo era farlo dimettere, mandarlo via, era far sì che si levasse di torno e non tornasse più, in quel momento Mattia ha resistito perché ha avuto degli amici a fianco, perché ha avuto delle persone che gli hanno voluto bene, ma perché ha sentito la città. E questo lo voglio dire rispetto a chi ci ascolta. Siete importanti per le persone che hanno un ruolo di responsabilità. Siete importanti per un sindaco, per dei consiglieri comunali, perché gli ricordate chi è e gli ricordate che può contare sull'appoggio e sul sostegno delle persone. Ed è il senso più bello di Italia Viva qua. Allora, Italia Viva è una start up, ce lo siamo detti, nel luogo della cultura prova a dire parole di bellezza per Mantua, ma prova anche a chiedere un impegno a ciascuno di voi. Perché? Perché qui c'è da fare una cosa semplice, da mettere in tasca la mano, prendere il telefonino, non vi sto chiedendo soldi, anche perché sennò come minimo vi perquisiscono, quindi tranquilli. Vi sto chiedendo soltanto di prendere in mano il telefonino e preso il telefonino ed iniziare a scaricare tutti i contatti dell'iPhone. Tutti i contatti dell'iPhone significa quanti sono? 100, 500, 1000, 2000, 5000, quelli che sono. E iniziare a dire uno per uno, io lo chiamo e chiedo il voto per Italia Viva e per Mattia. Ma come? Chi sei te per chiedere il voto? Ci sono i candidati. No, io chiamo e chiedo il voto perché questa sfida non riguarda i candidati, non riguarda il sindaco, ma riguarda me, la mia città. La cosa più bella che a me è avvenuta da sindaco è stata una notte, dopo la notte bianca, alle 4 del mattino, io ero mezzo rimbambito, arriva un ragazzo, 23 anni, Leonardo, studente di ingegneria, aveva fatto il giro della città, stava facendo il camminamento di ronda su Palazzo Vecchio e mi dice, sindaco, sai che ho capito? Io ho detto questo magari anche un po' bevuto, invece era prendersi il cappuccino di fine notte bianca a Palazzo Vecchio, sa che cosa ho capito io? Che questa città l'è bella. No, ma l'è bella non perché ci sono monumenti, l'è bella perché l'è anche mia. È bella perché è anche mia. Mantua non è bella perché c'è il teatro, perché c'è la storia, perché c'è il festival, perché c'è tutti i palazzi rivesi a posto, perché ci sono tutti i soldi che il vostro sindaco ha strappato a mano armata il povero governo della Repubblica. Non è bella per questo, è bella anche per questo, ma è bella perché è la vostra città. Se è la vostra città si scarica il telefonino, uno per uno, e si dice guarda io voto Italia Viva. Italia Viva, sì. Quel partito che ha fatto nascere il governo per mandare a casa Salvini, sì, per mandare a casa Salvini, ma che è l'unico partito che non vuole morire grillino. Perché la differenza tra noi e il PD, non ascolti adesso Mattia, è molto semplice. Quando tu in Liguria ti candidi con i Cinque Stelle e dai la storia riformista dei Burlando e di tutta la storia della sinistra Ligure a uno del fatto quotidiano, stai tradendo te stesso. Quando in Puglia sostieni Michele Emiliano che ha detto di noi, lo dico a Emma che ha vissuto quella pagina per tanti motivi, anche alla guida dell'ENI, le cose più atroci, quando hanno detto che noi a Taranto facevamo morire i bambini, quando hanno detto le cose che hanno detto dalla Xilella alla TAP. Se tu affidi la storia della sinistra a questi populisti hai già perso, anche se vinci. Figuriamoci se perdi. Se non volete morire grillini, se non volete morire leghisti, avete un solo voto possibile. È Italia Viva. Pensando che con questo voto riportate i palazzi per altri cinque anni a spaccarsi la schiera e andare a prendere i soldi a Roma, con buona pace dei deputati di Forza Italia che non hanno capito che un soldo che viene in città è un fatto positivo, ma non hanno capito perché poverini da questo punto di vista non si rendono conto che c'è una cosa che si chiama bene comune, che è più importante delle divisioni di partito. Bene comune. E c'è un sacco di gente di Forza Italia che a Mantua voterà la lista di Italia Viva come tanta gente che ha votato se vi dicono ma io non voglio votare per la Viva perché non lo so a Roma stanno coi grillini e se volete che vinca le nostre iniziative dovete votare per noi ma io non lo voglio votare perché Matteo si chiama come l'altro Salvini siamo un'altra cosa. Trovatevi tutte le risposte pronte tutte. L'importante è che il 21 settembre Mattia Palazzi sia di nuovo sindaco di Mantua e Italia Viva sia presente in consiglio in modo forte. Grazie a Matteo Colaninno, grazie a Elena Bonetti, grazie a tutti e a tutti i candidati insieme con Mattia.